Qui stiamo andando a vedere la moschea blu, ossia la moschea di Sultan Ahmed. Questa catena l'hanno messo perché soltanto il sultano poteva passare a cavallo, gli altri a piedi. Anche lui abbassava la testa davanti a casa di Dio, doveva essere umile anche lui. Uno che si monta la testa si dice, non montarti la testa sultano mio, più grande di te esiste Dio. Vai! Dio 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 Dio